Se vi diciamo 190 cavalli, cambio a innesti frontali e differenziale autobloccante, che auto vi viene in mente? Di sicuro non una 500. Ma se diciamo Abarth 695 biposto, tutto cambia. Ed eccola qui, senza radio, clima, maniglie porta e persino i due posti dietro. Ma con tutti gli accessori racing che si possono desiderare, come questo cambio a innesti frontali da 10.000 euro. E per provarla come si deve, l'abbiamo portata sulla nostra pista di Vairano e l'abbiamo affidata alle mani e ai piedi di Davide Fugazza. Com'è andata? Per scoprirlo, non perdetevi il video integrale che sarà pubblicato tra pochi giorni e la prova completa sul numero di aprile di quattro ruote che vi aspetta in edicola. Oggi scopriremo come si guida sulla neve e sul ghiaccio un mostro come la Huracan da più di 600 cavalli. E con questa siamo a quota 7. Sì, siamo alla settima generazione della Corvette, che per l'occasione rispolvera una sigla storica e gloriosa. Stingray!